Ezio, che cosa ci fai qui? Sono appena tornato a Firenze, ma guardati, bellissima come sempre. Ma, oh Ezio, io sono passati due anni. E io non ho fatto altro che pensare a qui. Ma, ma Ezio... Che cosa c'è? Sono promessa in sposa. Mio padre continuava a dirmi di scegliere. Pensavo che non ti avrei più visto. Manfredo! La vuole ammazzare! Che cosa? Un tale che gli ha vinto dei soldi. L'ha trascinato sul giglio del Ponte Nuovo. Chi diavolo è Manfredo? Il mio fidanzato. Il mio fidanzato sul giglio del Ponte Nuovo. Ehi, ci sono un po' di mezzo di mezzo! Te lo giuro! Mai è troppo tempo. Eccolo! Grazie, messere. Non sapete quanto... Ehi, fermo! Che cosa fate? Tu l'ami? Come? Ti ho chiesto se l'ami. Cristina! La donna che stai per sposare. Sì, sì, la amo! Ve lo giuro! Ammazzatemi! E morirò pensando a lei! Non giocherai mai più d'azzardo. Mai più, messere. Sarai un buon marito per lei. O ti darò la caccia... ...e ti ucciderò con le mie mani. Sta bene, sarà un buon marito per te. Mi sono accertato. Che... Che cosa?